Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto videocamere di sorveglianza Top Secret SPY. Disponibile con il movimento attivato qui. Amazon.d e tagliare e incollare nel vostro browser. Questo a Spicam attivazione motion e capacità di registrazione continua. E, la stessa unità, Top Secret Best Selling qui su Amazon, ma questo non ha movimento. Le luci IR sono automatica o manuale e sono completamente invisibili. Ci sono voluti automaticamente, la data, Timestamp su ogni colpo. L'IR ha una buona zona chiara di 6-9 metri nel buio più totale. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.